Presentato ieri nel borgo di Tellaro l'equipaggio senior con cui la borgata parteciperà appunto alla 93esima edizione. Tante novità quest'anno, un equipaggio nuovo allestito per tempo, quindi ci sarà tutto il tempo necessario per arrivare quel giorno davvero pronti e preparati. Novità anche sul fronte societario perché tante cose sono cambiate. Esatto, alla fine del palio 2017 il direttivo si è riunito e abbiamo deciso tutti insieme di partire con una nuova spinta e creare un nuovo team che supportasse il borgo e la borgata. Nella creazione prima di tutto di una nuova struttura, seconda cosa di un equipaggio senior che potesse avere il tempo di prepararsi bene per fare una gara dignitosa nel palio 2018. A questo punto vogliamo sapere da chi è composto l'equipaggio? Certo, capovoga abbiamo Cassotta Giovanni, secondo remo c'è Simone Cuffini, terzo remo abbiamo Nunzio Iannò, quarto remo Silvio Pietra, altimone Martino Botticchio. Ma tra le novità forse più importanti la possibilità di avere una sede quantomeno stabile, una sede a Muggiano che permetterà di custodire le barche e di rendere così anche agevoli gli allenamenti agli atleti. Sì, certo, questo è un progetto che è nato con l'aiuto dell'amministrazione di Lerici e del presidente Gianello e del presidente delle borgate che ci hanno aiutato parecchio in questo senso. I ragazzi hanno fatto la struttura coperta per le due barche, quindi abbiamo una sede stabile almeno per un periodo, spero lungo, ma per adesso per un tre anni. Adesso lì i ragazzi possono fare tranquillamente gli allenamenti, hanno la mancina che gli tira sulla barca, la mette a terra, possono uscire anche se c'è un po' di mare perché sono in diga. Poi nel nostro progetto c'è quello di dare un segno al paese, a Telaro, che abbia una borgata che veramente cambi completamente immagine da quello che è stato in questi ultimi periodi, di avere dei risultati migliori. Il sindaco proprio ieri, nella manifestazione di ieri, è stato molto sensibile al problema e ci sono delle buone prospettive perché le borgate di Lerici vadano avanti bene.